Montevarchi in campo allo stadio dei Marmi di Carrara. La squadra di Banchini è chiamata a smaltire la delusione dopo la sconfitta rocambolesca contro l'Ancona. L'imperativo è dimenticarla, voltare pagina e ripartire, anche se l'avversario non è tra i più agevoli. La Carrarese occupa una posizione di centro classifica e sembra avere interrotto la serie di sconfitte che avevano accompagnato gli ultimi turni di campionato. Martedì si è imposta 2-1 a Gubbio in una partita in cui finale ha ricordato proprio quello del Montevarchi contro l'Ancona. Per la gara allo stadio dei Marmi i rosso-blu si trovano in una situazione che li obbliga a non sbagliare. Un'eventuale vittoria sarebbe di notevole importanza in una corsa alla salvezza che per il momento li vede partire dall'ultimo posto. Mancano ancora molte partite alla fine della stagione ed è importante accumulare punti, quantomeno per recuperare verso la zona play-out. La rosa dei giallo-blu è composta da giocatori di esperienza in categoria. Nelle fila dei padroni di casa gioca l'ex Mercati. Nella gara di andata al Brilliperi il Montevarchi si impose per 2-1 con le reti di Gennari e Giordani. Per la cararese segnò Capello. La speranza è che quella vittoria sia di buon auspicio per la trasferta di sabato. Trasferta alla quale il Montevarchi arriva con l'organico quasi al completo. Non convocato a buon compagni, indisponibili cerasani e pietra, probabile l'esordio nell'undici titolare del nuovo arrivo Mussis. Grazie a tutti.